Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora intanto volevo dirvi grazie per tutti i commenti riguardo al penultimo video, quello in cui insomma vi ho confessato quanto è successo un paio d'anni fa mi siete stati vicinissimo e davvero non ho mai ricevuto una risposta così positiva e tanti tanti messaggi e commenti che ti scaldano il cuore quindi vi ringrazio di cuore e grazie anche perché vi avete lasciato tanti messaggi carini anche sotto l'ultimo vlog che sono contenta vi sia piaciuto non so mai se filmarli o no questi vlog perché non so mai se vi piacciono o no invece insomma fatemi sapere se volete che continui perché mi piace portarvi con me durante le mie giornate pervi vedere quello che combino anche se appunto non sono robe non lo so eclatanti però è figo cioè mi piace portarvi in giro con me comunque bando alle cianci a parte che mi sta venendo l'influenza io ve lo dico non mi sto sentendo parecchio bene quindi ma sono gasatissima perché oggi finalmente vi faccio il video sui miei regali di Natale ebbene sì che è super super richiestissimo se avete l'influenza come me batti 5 e sfigate comunque il primo regalo di Natale che vi faccio vedere che ovviamente ho già scartato e se mi seguite su Instagram su Snapchat già avete visto di che cosa si tratta questo è il pacchetto che mi è arrivato ci sono anche i regali che mi hanno fatto l'azienda perché anche questi sono regali di Natale che io ho messo sotto l'albero ed ho scartato al momento più opportuno e questo è non so se si vede è un pacco la merce anche aspettate se lo trovo voilà eccoci un fiocco bellissimo turchese qui c'è allora un foulard di Missoni per questa collaborazione che hanno fatto con la merce che è morbidissimo ed è anche molto molto bello tra l'altro sempre sui toni dell'azzurro del turchese del blu e poi ci sono così ci sono le due creme c'è la crema viso e la crema occhi eccoci qua io avevo provato in passato la crema occhi e mi era piaciuta talmente tanto che poi sono andata a comprarmela lo so queste creme costano veramente tanto sono credo tra le più costose al mondo ma vi giuro che almeno per me su di me funzionano cioè io le ho desiderate tanto sono contentissima che mi siano arrivate perché secondo me sono le creme migliori e ho provato altre creme che sono sulla stessa fascia di prezzo come Chanel, come Dior eccetera ma secondo me la mer vince su tutte quindi sono molto molto felice poi altra cosina che mi è arrivata questa mi è arrivata un po' prima di Natale ma io comunque l'avevo messo sotto l'albero ed è stato un pacchetto molto carino da Saint Laurent io amo questo brand sia per borse eccetera infatti poi ho una cosa, un danno da farvi vedere ma mi piacciono un sacco mi trovo molto molto bene anche con i loro prodotti cosmetici con i trucchi eccetera nel pacchetto c'è appunto questo che è un disco in vinile e poi ci sono questi tre colori per le labbra questi tre rossetti effetto vinile quindi sono extra lucidi e sono uno fucsia un altro è di un rosso più aranciato l'altro invece è un rosso un po' più scuro un po' più freddo come tonalità molto carino il pacchetto molto belle anche le colorazioni che sono super pigmentate quindi l'ho tenuto tutto impacchettato per farvi vedere poi la mamma di Tomas mi ha regalato allora questa questi sono solo i tovaglioli perché la tovaglia ce l'ho di là ma è una tovaglia siccome io ho un tavolo voi lo sapete abbiamo un tavolo molto grande di quelli che si allungano quindi viene fuori veramente una cosa importante diciamo così ma non avevo tovagli abbastanza grandi quindi mi ha regalato questo che a parte che è di un materiale splendido di un cotone morbidissimo ma è anche molto molto bella non so se riuscite a capire in videocamera ma ha questi disegni in delivio insomma è molto elegante sta molto bene come colore con tutti i mobili eccetera del soggiorno quindi insomma e poi lo uso subito il giorno di Natale per fortuna che ce l'avevo perché veramente non avevo con cosa apparecchiare la tavola altro regalo che ho ricevuto questo da Inglot allora mi hanno spedito un pacco in cui c'era un piccolo abete che io adesso sto tenendo tra la finestra esterna e quella interna perché lì c'è un po' più freddo altrimenti credo che non resista alle temperature calde dell'appartamento perché noi pianteremo e quindi sarà una figata perché poi sarà bello tra qualche anno quando sarà cresciuto eccetera eccetera quindi grazie Inglot perché è stato un pensiero molto carino di solito magari ti regalano quegli alberelli finti eccetera questo invece è vero e noi lo faremo crescere e poi anche questo è un alberello di Natale dentro ci sono allora un sacco di gengilli natalizi eccetera che c'erano anche sull'abete piccolino con il babbo natale di cioccolata che naturalmente sono spariti subito e poi qui dentro c'è tutta la l'ultima collezione Inglot ci sono molti pigmenti ombretto pigmenti e poi tanti altri smalti glitterati che sono molto molto belli poi questo è un altro regalo che ho ricevuto questo è dalla nonna di Tomas e ho lasciato tutto impocchettato per farvi vedere e dentro c'era il DVD con vari film di Audrey Hepburn colazione da Tiffany My Fair Lady Cenerentola a Parigi e Sabrina di questi io ho visto Sabrina e colazione da Tiffany ma gli altri due no e quindi è una figata e poi lo sapete che lei lo sa e anche voi sapete che sono insomma una delle mie attrici preferite è sicuramente Audrey Hepburn poi io adoro il suo stile e lei è molto elegante era molto elegante insomma una vera e propria icona di stile fashion e quindi questo è il DVD poi vi faccio vedere proprio il pacchetto Tomas e Nicole e qui dentro io quest'anno ho ricevuto un sacco di marmellate devo dirvi la verità con questi pacchetti aiuto con questi pacchetti carinissimi vari marmellate fatte in casa e poi altre marmellate ancora quindi avrò marmellate per un anno veramente poi qui c'è un medaglione di cera profumata poi qui c'è questo invece mi è arrivato da limoni e vi faccio vedere che cos'è perché è una figata davvero è un carica batterie per cellulare quelli portabili non so se si riesce a capire ma è simile Chanel come confezione e c'è scritto Nicole io amo i regali vi giuro io adoro le cose personalizzate cioè potete regalarmi anche non lo so un pezzo di legno ma se ci scrivete sul mio nome io sono felice cioè sarò rincretinita dentro tra l'altro c'è anche uno specchio che non guasta mai altro regalo questo mi è arrivato da Benefit Cosmetics molti di questi regali avevano anche una bustina carina vicino ma vi faccio vedere i regali ma mia sto perdendo anche la voce vi giuro a fine di questo video vi lancio sul divano e muoio cioè bene e c'era in molte mi avete detto perché io praticamente ho aspettato Natale per aprirlo perché cioè il pacchetto era così carino non volevo aprirlo in realtà molti di voi mi hanno detto aprirlo perché è un calendario dell'avvento ma io comunque non l'ho aperto cioè sono stata grande perché ho resistito alle curiosità io ogni anno non apro niente prima del 25 però a mezzanotte scarto tutto in un minuto e mezzo comunque questo se siete come me scrivetemi comunque questo è appunto un bellissimo calendario dell'avvento fa anche la musica io poi ho richiuso tutte le caselle perché sono fissata in questo modo quindi sì ma dentro ci sono un sacco di prodottini benefit questa è una figata è la mini crema per occhi che è super super utile quando viaggio io amo i mini size vi giuro io avrei tutto i mini size e quindi sì un sacco di prodotti bene ho finito ogni casella naturalmente ogni giorno c'è un prodottino altro regalo bellissimo qui vi faccio vedere anche il bigliettino perché questo è da parte di NYX e mi hanno scritto alla sposa più bella del 2017 un pensiero per chiudere al massimo quest'anno con noi mi ha fatto molto molto piacere questo bigliettino e tra l'altro non poteva esserci il regalo migliore e secondo me non è personalizzato ma di più perché cioè rendetevi conto mi hanno spedito tutti i loro soft matte lip cream tutte le tonalità dei lip cream opachi io amo io vi giuro sono impazzita e tra l'altro ho resistito alla tentazione di aprire questo pacco e swatchare tutto solo perché volevo farvi vedere tutto integro quindi sì sono tutti i loro colori matte io non potrei essere più felice mi è arrivato un regalo di Natale Merry Christmas anche da Essence che ultimamente mi stanno mandando delle cosine sono molto carini e all'interno vi faccio vedere c'è Essence Loves Nicole eccolo cioè vi giuro io sono impazzita stesso discorso se mi regalate qualcosa qualcosa di personalizzato specialmente se c'è il mio nome io impazzisco quindi sono impazzita quando ho visto questo secondo me è molto carino come regalo e poi vicino qui c'è un pacco con tutte quante le lettere se voglio cambiare appunto e scriverci qualcos'altro sulla lavagnetta è una figata pazzesca e non è un regalo scontato perché se ci pensate potevano metterci dentro non lo so tre rossetti invece hanno fatto questa cosa che è una figata poi Make Up For Ever loro io li adoro sapete che sono stata a Parigi nei loro studi nei loro uffici nella fabbrica dei trucchi quindi ho un rapporto super veramente con Make Up For Ever e mi hanno spedito anche loro un pacchetto con gli auguri questi però erano per capodanno e dentro c'è il bigliettino con scritto Happy New Year with Starlit and Pro Light Fusion del appunto con tutte le nuove colorazioni i loro biglietti i loro packaging adesso è molto simile alla Louboutin tipo nero e rosso molto figo dentro ci sono un sacco un sacco di prodotti nuovi due pennelli due Pro Light Fusion questi sono illuminanti già vi avevo parlato di questi illuminanti infatti credo che di averlo già questo qua però mi hanno spedito sia il numero 1 che il numero 2 quindi questo sarà leggermente più scuro poi ci sono 5 Starlit Liquid non conosco questo prodotto ma c'è scritto Sparkling Liquid Gel quindi sono dei gel liquid colorati brillantinati i sparkly quindi hanno i brillantini e sono non lo so credo siano dei prodotti multiuso devo informarmi su questi in realtà sono credo siano smalti io spero poi ovviamente sarà tutta un'altra roba sarà tipo mascara comunque a me sembrano degli smalti poi ci sono 1,2,3,4,5,6,7,8 Starlit Powder io amo questi Starlit Powder perché sono bellissime molto molto brillantinate sono dei praticamente dei pigmenti in polvere da usare si possono usare sia sugli occhi che mescolandoli magari ad un gloss trasparente si possono applicare anche sulle labbra insomma sono fantastici hanno una formulazione che è non pigmentata di più veramente sono super super ricchi di colore poi mi sono arrivati questi in realtà non erano dei regali di Natale ma io volevo inserirli in questo video e approfittare perché ve le volevo parlare sono i nuovi come si chiamano io non so mai i nomi sono i nuovi Velvet Matte Lipstick Fluid Velvet Matte insomma sono i nuovi rossetti liquidi opacchi di Deborah Milano allora quando mi sono arrivati ovviamente ero tipo wow rossetti liquidi a me quindi tipo il mio tesoro e quindi li ho provati subitissimo e ci sono rimaste perché sono fantastici e li uso un sacco voi sapete che se mi arrivano prodotti che veramente uso vuol dire che sono prodotti che io stessa acquisterei e che quindi mi sento di consigliarvi a tutti gli effetti oggi sto indossando tra l'altro il colore nude di questi ne ho un paio sparsi in borsetta a capodanno ho usato il rosso non questo ho usato quello un pochino più chiaro che adesso credo sarà in qualche beauty case non lo so voglio assolutamente parlare di questi prodotti perché costano poco sono fantastici come resa perché sono super pigmentati super opachi non sono semi opachi semi sono super opachi e hanno una tenuta pazzesca io a capodanno ho indossato quello rosso tipo per tutta la sera e non credo di averlo nemmeno ritoccato se non tipo alle 4 di mattina ma solo perché non avevo messo la matita quindi insomma volevo un attimino dargli una forma un po' più decente dopo tutta una notte però sono veramente dategli un'occhiata a questi prodotti se già li avete scrivetemi se anche per voi sono fantastici ma insomma complimenti a Deborah Milano perché hanno creato dei prodotti davvero davvero validi poi visto che vi faccio vedere i regali di Natalia non credo di avervi mai mai fatto vedere i bigliettini che mi prepara mia nonna e siccome io sono super fiera di mia nonna che è fantastica cioè è super in gamba è super carina perché mi fa sempre questi bigliettini dovevo farvi vedere vi giuro c'è la renna io devo sempre apprezzare i takamaki diciamo noi a Trieste quindi gli adesivi devo sempre apprezzare allora qui c'è una renna con le corna glitterate ho apprezzato tanto poi qui c'è il mio nome e posso svelarvi un segreto tanto mia nonna non vedrà mai questo video mia nonna ha sempre scritto il mio nome senza la E però io non ho il coraggio vi giuro non voglio spezzarle il cuore e dirle no ma si scrive con la E quindi me ne sto sempre zitta e le dico è fantastico è fantastico però lei è convinta che il mio nome si scriva senza la E e quindi e poi qui c'è sempre la stessa renna o tipo il fratello di quella renna su un aeroplanino anche l'aeroplanino glitterato poi c'è una stellina poi dentro c'è il bigliettino ve lo leggo non so se riuscite a vedere qualcosa c'è scritto Nicole Tomas buon Natale e anno nuovo un bacio nonna Anita eccolo qua qui c'è il babbo Natale con una slitta stelline e vari adesivi carini sto tenendo il bello per ultimo i mega regali come sapete nei miei video arrivano sempre per ultimi poi mi è arrivato questo che in realtà anche questo non era proprio per Natale infatti non c'entra niente però volevo inserirlo perché è una figata questo pacco California questo mi è arrivato da Benefit infatti ve lo dico non è natalizio come pacchetto ma è molto carino specialmente che mi sia arrivato in questo periodo in cui mi arrivavano solo pandori cioè gingilli natalizi Benefit mi ha spedito l'infradito bene e ci sono appunto ci sono l'infradito rosa con marchiate insomma Benefit molto molto belle questo infradito poi dentro c'è una coroncina una coroncina bellissima bellissima voglio indossarla non vedo l'ora che sia primavera poi ci sono questi occhiali e si riesce anche a vedere tra l'altro attraverso e credo ci sia scritto California ci sono poi arriviamo anche al prodotto poi ci sono tutti questi tatuaggi dorati che fanno molto estate e poi c'è il prodotto in sé che è un blush la confezione è identica al pacco che mi hanno spedito molto carina questa nuova confezione ci piace e all'interno la confezione è tutta dorata c'è il pennellino come al solito anche se io dovessero essere sincera non uso mai questi pennellini uso sempre quelli grandi insomma però quando viaggio magari se li dimentico può essere utile e poi tra l'altro profuma ha un buonissimo profumo non so decifrare di che cosa si tratta perché sono negata però ha un buonissimo profumo un profumo io credo sia cocco di solito non è mai quello che io credo che sia quindi pensate che sarà tutto tranne cocco e va il blush in sé è molto molto bello perché mi ricorda un po' il Nards Orgasm perché è color pesca ma ha tutti questi riflessi dorati molto carino il packaging e vedremo insomma come il prodotto lo userò magari in qualche video perché il prossimo video che voglio firmare è un nuovo get ready with me chiacchiericcio so che vi piacciono e piace e piace anche a me filmarlo altro pacco che mi è arrivato per Natale da Too Faced ed è una cosa gigantissima con una pesca qua che carina che carina dentro c'è una veramente una miriade di meraviglie pazzesche c'è la Sweet Peach Palette poi ci sono altri prodotti tutti della collezione Sweet Peach e questo pacco profumo di pesca non avete idea profumo buonissimo questa pochettina a forma di pesca Too Faced devo dire che ha sempre dei pacchi bellissimi io quando ricevo un pacco Too Faced sono sempre la tipo bambina perché sono sempre molto carina poi dolcis in fundo questo è stato il regalo di mia mamma e di mia nonna assieme che in realtà ho scelto io a cortina e questo è dalla scatola capirete già tutto già prima di vedere il brand questo è il mio secondo paio di Louboutin ho scelto un paio un po' più classico questa volta ero indecisa tra le come si chiama le Pigalle che sono quelle classiche decolleté lucide ma siccome le hanno un po' tutti e poi queste mi stavano decisamente meglio queste sono le Susanna le Pigalle si trovano sempre mentre queste sono nuove quindi non so se si troveranno ancora sono Tacco sono 10 cm classica sola rossa che io adoro e tra l'altro ho trovato anche un calciolaio che mi fa la soletta in gomma rossa quindi yes e se volete mandarla all'Oboutin pagate tipo 150 euro solo per la soletta rossa non lo so una roba del genere quindi non intendo farlo mi dispiace l'Oboutin ma appunto queste sono le decolleté si chiamano appunto Susanna Tacco 10 e sono incredibilmente molto comode forse sono io che ormai ho i tacchi praticamente ogni giorno fino a qualche anno fa avevo solo ballerine e stivali bassi adesso ho sempre solo tacchi magari se voglio indossare un paio di scarpe un po' più comode metto i tacchi quelli tipo un po' più larghi però mi piace e non mi vergogna più di essere alta 1,90 perché sono 1,77 quindi con i tacchi divento tipo 1,90 ma chi se ne frega la vita è una e queste sono appunto le scarpe si vi farò un video sulle mie scarpe promesso promesso vi giuro non credo di averne abbastanza per fare un video non lo so forse sono io che sono fuori di testa però mi piaceva molto che ci fosse questa cinghia sulla caviglia rende il tutto molto più giovanile molto più rock ma sono comunque molto eleganti e queste sono invece opache amo queste scarpe e appunto sono le mie seconde l'ubutenne dentro all'interno vi posso vedere questo è il pacco naturalmente cade sempre tutto e poi ogni scarpa ha la sua dust bag rossa e poi ah si il regalo di Tomasio non ve lo posso far vedere perché sono un paio di sci che noi abbiamo lasciato nella casa in montagna quindi magari anzi se avete visto il mio ultimo vlog mi vedete sciare proprio con quelli sci che è il video che ho caricato l'altro ieri per voi per me è ieri ma quando vedete questo video sarà l'altro l'altro ieri ho caricato un video vlog in cui mi vedete sciare cioè sciare cioè scendere pianissimo spinta dal vento in uno spazzaneve discutibile e quelli sono gli sci gli sci che mi ha regalato Tomasio quindi non posso farveli vedere perché non li ho qui fisicamente però mi sono fatto un altro un auto regalo come sapete io mi faccio sempre degli auto regali che io chiamo autodanni sempre nello stesso negozio ebbene sì anche qui se avete visto se mi seguite su snapchat e se mi seguite su instagram già sapete di che cosa si tratta ma ve la devo far vedere anche in video questa è la borsa ma è parte del non è del packaging originale è solo del negozio eccoci qua questa è la dust bag e questa è la mia terza borsa Saint Laurent appena l'ho vista mi sono innamorata se sentite qualcuno che tossisce è assolutamente Tomasio che anche lui ha messo male anzi peggio di me e questa è la borsa fantastica come sapete io ho la oddio come si chiama tout le jour non lo so quella insomma un po' più classica un po' più tipo tote di Saint Laurent che non assomiglia per niente a questa poi invece ne ho un'altra tipo questa ma la pelle è lucida è un po' più dura questa è fatta tipo in velvet come si dice in italiano aiuto però è più piccolina l'altra è dorata questa appunto è più grande cambia il materiale cambia il colore dell'hardware perché questa invece è argentata borsa argentata avevo soltanto nera e argentata avevo soltanto la jumbo Chanel e quindi adesso ho anche questa sono super contenta perché è nonostante forse possa non sembrare ma è parecchio spazio c'è parecchia parecchia roba all'interno è insomma quello che può servire e mi piace che si possa usare sia di giorno che come pochette da sera e questa è un'edizione limitata con tutte queste stelline sbrillocicose insomma mi è piaciuta subito quindi questi sono i grossi danni questi sono i miei regali ho glitterini ovunque questi sono i miei regali di Natale tra l'altro l'altra cosa che io cioè in questo video approfitto per parlarvi di tutto voglio fare i capelli un po' più chiari perché qui praticamente vedete questo è il mio colore naturale li ho lasciati crescere non ho fatto neanche colpi di sole però voglio farli più chiari non lo so consigliatemi sono quasi sicura però magari vi fate cambiare idea come li avevo tipo due anni fa o l'anno scorso una cosa del genere quindi fatemi sapere e niente questo è tutto l'ambaradan di roba che io avevo sotto l'albero spero vi sia piaciuto questo video vi mando un un mega bacio come al solito scrivetemi nei commenti qualsiasi cosa perché io anche se magari non rispondo a tutte vi giuro che li leggo tutti 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 quindi bacio e alla prossima ciao